Ci troviamo di nuovo qui nella stupenda Sardegna, precisamente a Cagliari, e andremo con voi a eseguire di nuovo un test di velocità. Qui abbiamo una connettività telecom con fibra. E giughiamo il test. Ok, abbiamo un ping decisamente molto buono. Adesso vediamo il down. Ok, da un molto buono, un 25. Adesso vediamo l'upload. Decisamente buono rispetto a una 7 MB o una 20 MB. Siamo intorno ai 3 MB in upload. Questo è il nostro router di alto livello. La sim è una sim LTE. Insieme adesso andiamo a vedere le prestazioni di questa sim. Vi ricordo che il costo della sim è di 24 euro al mese, IVA inclusa per i privati, con un costo di attivazione di 49 euro. E giughiamo insieme il test. Ecco qua. Un down decisamente eccezionale, direi. Vediamo l'app adesso. Ecco qua. L'app di tutto rispetto sui 10 MB. Bene. Questi sono i risultati. Per qualunque tipo di ulteriore informazione, contattateci a infochiocciolabrokerperlatelefonia.it Vi aspettiamo.